E' un po' di cazzi tu hai mai. Mi scusi a lei, la dottoressa? Beatrice, porca Epp! Sto socializzando qui! Si sta impicciando, avanti, per cortesia. Per esempio, come te la cava questa Morelli? A Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing. Praticamente l'ha espugnata. C'è un autobus! Venite! Lo aspettiamo stasera per piacere, una bravata. No, la macchina, no! La macchina! Ma Tchaikovsky, eh? E qui si deve avvertire subito le forze dell'ordine. Siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene. Vogliamo stare bene. Voglie stare bene. Ehm. Questo è sembrano nel caso di questo perché succedavat. È importante, perché sono stat Eccociame anche quellete sono ballastazioniali. Grazie a tutti.